Sì, secondo me non è che ci sono favorito sfavorite, le partite soprattutto con queste squadre che difendono tanto, anche lì in casa loro sembrava quasi fatta e poi in realtà è andata molto per le lunghe, sapevamo che era una partita tosta, sappiamo che arriva un periodo tosto, difficile e dobbiamo pensare partita dopo partita, neanche tanto la classifica ovvio, essere primi in classifica è un grande onore, però sappiamo anche che è tosta ed è difficile, il campionato è ancora molto lungo. Sì, siamo sempre on fire il primo set e anche fuori casa il terzo fatichiamo sempre, non so come mai, oggi è bravo perché era una partita dove bisognava avere pazienza, anche quando dopo c'è stato lo stop degli arbitri non era facile ritornare in campo e portarla a casa. Sì, loro anche hanno battuto bene e noi dal secondo abbiamo veramente messo l'acceleratore in battuta, infatti è andata anche, cioè ha aiutato molto Muro Difesa. Sappiamo che sono toste, come ogni partita come dicevo prima, però è una partita da dentro e fuori, quindi in realtà forse è più il gioco emozionale che ci sarà mercoledì, però giochiamo in casa e io sono fiduciosa. Eh sì, ogni compagna ne ha uno e dai sta portando bene e continuiamo a farlo.